Parte in salita il piano estate voluto dal ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Più dell'80% dei docenti che hanno risposto al nostro sondaggio dichiara di non avere nessuna intenzione di dare la propria disponibilità per collaborare alla realizzazione delle attività estive. Ma anche il 75% dei genitori, forse per timore del contagio, afferma che terrà a casa i figli dopo il termine delle elezioni. Una posizione favorevole è stata espressa invece dalle associazioni professionali più importanti, AIMC, CIDI, MCE, Proteo, mentre i sindacati scuola parlano per lo più di un progetto apprezzabile ma con molte ombre. Un po' tutti sottolineano che il piano estate non può limitarsi ad essere soltanto una misura per fare fronte all'emergenza. Se così fosse, il pur consistente investimento, si tratta di mezzo miliardo di euro, rischierebbe di essere uno spreco o quasi. Il piano invece dovrebbe svolgere una funzione di volano rispetto allo sviluppo del sistema scolastico. È questo anche il punto di vista di Dario Missaglia, presidente nazionale di Proteo Fare Sapere, al quale abbiamo fatto un'ampia intervista disponibile nel nostro canale YouTube. Ma ci sono anche opinioni molto critiche, come quella di Eugenio Tipaldi, dirigente scolastico a Napoli, che nel corso di una intervista che ci è stata rilasciata nei giorni scorsi, afferma senza mezzi termini che le risorse impegnate nel progetto avrebbero dovuto e potuto essere impiegate per interventi strutturali finalizzati a migliorare la qualità degli edifici scolastici. Per la verità una critica analoga viene formulata anche da molti lettori che commentano nei social i nostri articoli. Intanto però molte scuole sono già al lavoro per mettere a punto i progetti da presentare per i bandi PON che scadono il 21 maggio e che mettono in palio 320 milioni di stanziamenti. Altri 150 milioni sono invece disponibili grazie al decreto legge 41 del 22 marzo e 40 provengono dalle risorse della legge 440 sulla autonomia scolastica. Ma questi fondi, almeno per quanto se ne sa in questo momento, dovrebbero essere assegnati alle scuole con riferimento al numero di alunni, plessi e docenti. Senza dimenticare che il decreto legge parla esplicitamente di patti di comunità aperti alla partecipazione delle organizzazioni del terzo settore e degli enti locali che in molte realtà interverranno anche con fondi propri. Non a caso il ministro Bianchi ha già detto che il piano rappresenta per il mondo della scuola una occasione importante per disporre di ulteriori significative risorse. Su questo tema ovviamente noi continueremo a tenervi informati quindi seguiteci sempre su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come di consueto. www.tecnicadellascuola.it